Ragazzi, questa è la mia specialità. Grazie per tutto questo. A volte Natale è così triste. Non mi devi ringraziare. Io cercavo mio padre a Natale, ho trovato addirittura Babbo Natale. Questo è il Natale più bello della mia vita. Forza ragazzi che ce n'è per tutti. Speriamo che il nostro Babbo Natale riesca a farci il regalo. Ragazzi fate attenzione perché è un po' piccante. Forse devo modificare un po' la ricetta. Cazzo un po'.